Andres Che cazzo fai? Ti stavamo aspettando Ci hai detto che tornavi prima di riprendere l'ascensore E noi a preoccuparci ai computer Ti abbiamo aspettato un'ora Cazzo Che cazzo fai Andres? Fuori cazzo Forse Andres per favore Però Andres quello che voglio farti capire Cioè noi ci diamo per questo Ci sono gli ascensori Che sono bloccati Noi abbiamo pensato che fossi rimasto Là dentro Perché? Cazzo Cazzo Che? Che? Cazzo 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 New